Il presidente della Repubblica Ceca, Václav Claus, in questi giorni in visita di Stato in Italia, si è recato a Palazzo San Giacomo, dove ha incontrato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Claus ha partecipato inoltre ad un incontro all'Università Federico II per parlare di integrazione europea senza illusioni ed ha ricordato anche i suoi trascorsi napoletani. Nel corso della sua carriera scientifica, infatti, ha svolto attività di studio e di ricerca anche a Napoli, all'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico. La delegazione ceca guidata da Claus ha visitato anche la Camera di Commercio e non è mancata inoltre una tappa privata di qualche ora a Capri.